La finanziaria regionale approda nell'Aula del Consiglio domani per l'approvazione entro il 31 dicembre con la Commissione impegnata nell'esame dalla mattinata di oggi. Manovra proposta dall'assessore al bilancio Mario Quagieri. La carne a cuocere è tanta, i lavori potrebbero proseguire venerdì 29. Non c'è traccia del mille proroghe che potrebbe essere agganciata ad altra norma come arriverà sotto forma di emendamento alla legge di stabilità. La cosiddetta manovra d'aula per distribuire fondi. Il bilancio movimenta spese entrate per 14 miliardi e 612 milioni, somma superiore a quella dello scorso anno. Fondi per il fabbisogno delle persone in stato di povertà, per i cargiver, per il trasporto e l'assistenza scolastica delle persone con disabilità, per la vita indipendente, ma sono previsti stanziamenti consistenti anche per attività culturali e sportive come il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, Carton de Bea a Pescara, la Notte dei Serpenti o il Giro d'Italia. Si sta già analizzando in queste ore in Commissione. Non è certo una manovra che ha risorse infinite per tutto, ma rifinanziamo tutte le conquiste che in questi cinque anni abbiamo acquisito. Penso alla vita indipendente, a maggiori fondi per le esigenze del disagio alimentare, ai fondi per potenziare i voli dell'aeroporto d'Abruzzo, a necessità che hanno gli enti locali di vedersi finanziate alcune iniziative. Non abbandoniamo i presidi più importanti, continuando a investire su azioni che possono portare nuova economia in Regione Abruzzo. Nella seduta di oggi intanto ci sono quattro nuove leggi, quella a sostegno delle donne vittime di violenza affermata dalla Marcozzi con un reddito di libertà per varie iniziative, la proposta dei Cinque Stelle con il capogruppo Tagliere e Pettinari per sbloccare una norma relativa alle barriere architettoniche, poi la legge che prevede un marchio per le attività commerciali simbolo proposta dal consigliere Di Matteo.